Stragisti, che cosa racconta e perché nasce questo libro? Nasce per raccontare dietro le quinte degli attentati 30 anni fa, per fare luce su chi è stato il protagonista di quelle bombe e di quel periodo terroristico mafioso, proprio per capire oggi chi sono e che cosa hanno fatto in questi 30 anni. E oggi chi sono e perché è importante farli conoscere anche le generazioni più giovani? Farli conoscere perché rischiano di uscire dal carcere e quindi di trovarseli in giro, farli conoscere perché non sono stati da soli a commettere quegli attentati, altri complici sono ancora in giro. Il compito di un giornalista ma soprattutto dell'autore di un libro è quello di far ragionare sui fatti, documentando tutto ciò, ragionando su cose concrete, far comprendere che ancora c'è tanto da scoprire e tanto da accertare. Lei ha detto anche che sembra oggi quasi di essere tornati a 40 anni prima quando la mafia entrava nei consigli comunali, perché? Oggi a 30 anni di distanza dalle stragi ci commuoviamo per quelle stragi, giustamente per ricordare Falcone e Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti delle stragi, però oggi ci sono politici condannati per fatti di mafia che ritornano a fare politica e a dettare e a dettare la politica, a indicare anche i candidati ai comuni, a sindaco o ai consigli regionali e la gente li vota, la gente non prende le distanze. Questo significa tornare a 40 anni prima, a quando la mafia era sì nei consigli comunali ma anche in quelli regionali.